Ciao amici, sapete perché vengono i denti gialli? Deve essere una specie di maledizione. No, ecco perché succede. Sui denti si accumula la placca batterica, cioè un insieme di residui di cibo, sali minerali e altre sostanze. Col tempo la placca causa la proliferazione di batteri che si nutrono dei residui e con il tempo possano danneggiare lo stato esterno dei denti, lo smalto. Per questo poi i denti rimangono gialli e di colore spento. Quando la placca si cristallizza, cioè diventa dura, si chiama tartaro e per rimuoverla bisogna spendere un occhio della testa dal dentista. C'è un rimedio casalingo per evitare che succeda. Intanto trovate altri video sulla cura dei denti nella mia playlist nel link in descrizione nella piccola I qui in alto. Ora ecco come eliminare il tartaro e la placca batterica con un rimedio fai da te. Ingredienti. Un cucchiaino di bicarbonato, un quarto di cucchiaino di sale fino da cucina. Applicazione. Mescolate gli ingredienti con poche gocce d'acqua e strofinate delicatamente sui denti con lo spazzolino. Attenzione a non ingerirli, poi risciacquate bene. Usate questo rimedio in base alla situazione dei vostri denti, ma non più di due o tre volte la settimana. Squaletto dice che con denti così bianchi tutte le sirene gli fanno il filo. Un bel sorriso aiuta ad avere più fascino. Abbi cura dei tuoi denti con gli ingredienti che hai già in casa. Sotto in descrizione trovi il link ai miei libri e ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!